L'Inter può essere una squadra che può ambire a fare un ottimo campionato. Bisogna fare grande attenzione sulle loro ripartenze, da parte di Alvarez e da parte di Palacio. È felice per il gol e triste perché non è entrata la seconda palla di testa. È una vittoria bellissima. È stata una partita molto maschia. Sicuramente non ha regalato molto spettacolo, molte azioni da gol, però era sentita da tutte e due le parti. Quindi alla fine è un pareggio che ci può stare. Queste sono partite molto difficili dal punto di vista tattico che non potranno mai essere belle perché si cerca di intassare gli spazi, si cerca di giocare sull'errore altrui. Io penso che questa partita abbia dato due risposte. Che l'Inter concorrerà con le prime fino alla fine e che la Juventus è una squadra tosta e dura da battere. Che l'Inter concorrerà con le prime fino alla fine e che la Juventus è una squadra.